Ciao a tutti, io sono Tiz e lei è Spring e insieme formiamo la TNSProject.com. Di cosa ci occupiamo? Noi ci occupiamo di educazione cinofila, quindi siamo entrambi educatori cinofili, ma non solo, perché io sono appassionato anche di tecnologia, di fotografia, di video, e quindi volevamo insieme raccontarvi un po' quello che è la nostra storia, quello che è il nostro lavoro, insomma tutto quello che ci piace fare. Prima di cominciare però dobbiamo preparare la nostra sala, quindi vediamo un attimo la sigla e poi iniziamo a prepararla. Bene, abbiamo montato la sala, siamo quasi pronti, venite con noi. Eccoci qua, questo è il set che vedrete più spesso quando parleremo della teoria, dell'educazione cinofila, quando vi spiegheremo alcuni esercizi prima di trovarli appunto all'esterno. Questa prossimamente sarà la mia sedia, oggi è di spring però non le piace tanto. Non le piaceva tanto il fatto di essere qui su una sedia che si girava, quindi lasciamo lì al suo posto. Magari le cercherò anche uno sgabellino così può stare anche con noi quando parliamo qua in saletta. Bene, quindi di cosa parleremo in questo set? Principalmente di educazione cinofila appunto, quindi tutto quello che riguarda la teoria, la spiegazione degli esercizi di pratica che poi appunto andremo a mettere in pratica sul campo, sia con me che con la spring, ma magari anche con i vostri cani o i cani appunto dei nostri amici e dei nostri clienti. Qui faremo anche le recensioni dei vari accessori riguardanti il mondo sempre cani, quindi a partire dalle cucce, dalle ciotole, dai giochi o anche la tecnologia studiata appunto per i cani, quindi come possono essere varie telecamere, sistemi di sicurezza per cani, insomma varie cose, varie oggettistiche. Qua sopra ci sono un po' di tecnologie, quindi vari obiettivi, la GoPro, un treppiede. Qui sotto invece tutto quello che riguarda la spring, quindi la sua pettorina, il suo guinzaglio, in mezzo il mio marsupio porta premietti. Porta premietti molto utili appunto nell'educazione. Quindi vi racconto un po' intanto anche chi sono, sono un educatore cinofilo formato alla SIWA, attualmente tutor anche presso la ECRES Academy che è una scuola appunto di educazione cinofila. Oltre ai cani nella mia vita appunto mi sono interessato molto anche alla fotografia ed ai video, quindi nel corso degli anni ho studiato appunto anche fotografia ed anche video, ho acquistato vari materiali e anche questi andremo a recensirli in una delle mie rubriche che sarà dedicata appunto alla tecnologia, quindi varie macchine fotografiche, obiettivi, videocamere, action cam, ma anche altre cose tipo l'orologio della Garmin o comunque varie altre cose di cui io dispongo e pian piano cercheremo appunto di raccontarvele. Parliamo invece un po' della Spring. La Spring è un incrocio tra Bovaro del Bernese e Bovaro dell'Entlebook. È con me da quando ero a Cucciola, proviene da un allevamento di Belluno a cui è scappato appunto questo incrocio e per nostra fortuna, perché ci ha permesso di conoscerci e vivere praticamente insieme, praticamente sempre. Quindi la vedrete con me praticamente sempre. Però adesso basta, dai parlare di noi, tanto avremo tutto il tempo di conoscerci meglio. Intanto vi porto a vedere il secondo set. Quindi passate nella GoPro che vi portiamo all'esterno. E questo sarà il nostro secondo set. Ovviamente non sarà questo specifico, ma sarà semplicemente all'esterno. Vi porteremo con noi a fare un po' di passeggiate, sia in campagna come vedete adesso, potremo andare anche su qualche collino, qualche montagna, potremo andare sulla neve, tutto quello che fa parte della nostra vita insieme noi cercheremo di raccontarvelo. E non mancheranno neanche le città, perché anche le passeggiate in città fanno parte appunto della nostra vita. Spesso ci accompagnerà anche Spring. Ogni tanto magari non la porteremo, perché magari se devo fare dei viaggi lunghi e starci magari soltanto un giorno, è inutile farle fare questa sfaticata anche in macchina. Inoltre qua in esterna faremo anche degli esercizi di pratica. Li faremo sia direttamente noi, oppure anche con dei nostri amici. Vi faremo vedere anche come lavoriamo con i nostri clienti. E non mancheranno neanche le passeggiate organizzate o semplicemente nate all'improvviso con dei nostri amici. E vi faremo vedere come sia possibile vivere tranquillamente con un cane se questo appunto è educato. Insomma abbiamo tante sorprese, tante cose da raccontarmi. Saremo sempre io, la Spring, ci sarà qualche ospite, qualche amico. E l'immancabile zaino con l'immancabile attrezzatura fotografica per i video per farvi vivere con noi quella che è appunto la nostra vita insieme. Come avete capito siamo appunto educatori cinofili e dico siamo perché lavoriamo insieme. Quindi io mi occupo dei clienti umani, quindi di spiegare agli umani come educare il proprio cane, mentre la Spring si occupa principalmente di educare direttamente il cane. Quindi le insegna la comunicazione che ci sono dagli altri cani, aiuta i cani magari più timidi a entrare in relazione con altri cani e aiuta invece i cani più energici a calmarsi e ad avere un profilo appunto un po' più calmo e più tranquillo per affrontare meglio la vita e le situazioni che si pongono davanti. Da questa nostra collaborazione deriva anche il nostro nome, TNS Projects. Sono appunto le iniziali del nostro nome, TITS e Spring Projects. Projects invece deriva appunto dal progetto che vogliamo intraprendere, quindi non si tratta soltanto di educazione, non si tratta soltanto di video, non si tratta soltanto di foto, ma appunto è tutto l'insieme. Tutto l'insieme che spero che vogliate viverlo con noi. Bene, quindi se vi piacciono i cani, se siete interessati all'educazione cinofila, se siete interessati a nuove passeggiate, a nuove visite per città o anche un po' di tecnologia, non vi resta che seguirci, quindi iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto mettete pure un mi piace, commentate, diceci la vostra, cosa vi pare, cosa vi sembra e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao da TITS e Spring di TNS Projects.com Ciao ciao!